Sono Vincenzo Farruggia, l'amministratore di Magesto. Facciamo parte della grande famiglia Nepla e sono davvero onorato di poter ospitare il prossimo 30 settembre presso la nostra cava Siten Altamura, l'evento di Cava ExpoTech, per la prima volta presente nel sud Italia. Nell'ambito degli approfondimenti periodici, che stimolano e motivano la nostra passione lavorativa, sarò lieto di presentare a tutti voi la nostra realtà nel cuore della murcia. Essa ha caratteristiche diverse da quella nelle quali si sono svolti i precedenti appuntamenti, trattantosi nello specifico di una cava di aggregati calcare. Vi aspettiamo tutti il 30 settembre.